buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero andiamo a vedere quindi anche per oggi le energie del giorno vediamo che cosa sta accadendo nella giornata di oggi o nei giorni attorno ad oggi e intanto io vi ricordo che per avere una sessione privata con me o un pacchetto che comprenda coaching analisi karmica o per diventare i miei studenti e imparare quindi a leggere i tarocchi con il metodo maya e quindi la tarologia psicoevolutiva vi basta inviare un'e-mail e chiedere ad angela di inviarvi tutte le informazioni potete chiedere un qualunque sistema di rateizzazione scegliere quello che è più comodo per voi oppure andate sul sito internet e fate un po tutto da soli ma vediamo subito quali sono le energie di oggi le carte non vogliono uscire oggi non sta scappando nessuna carta e non capisco perché come se stessimo noi come se stessimo noi trattenendo qualcosa che cosa state trattenendo ragazzi me lo commentate perché è evidente stiamo trattenendo qualcosa abbiamo difficoltà a lasciare andare qualcosa le carte hanno difficoltà ad uscire a scappare via dalle mani ecco adesso sono uscite tutti in una volta e non vanno bene prendiamo questa ok ecco che cosa stiamo ecco qual è il problema ecco che cosa sta accadendo dunque abbiamo il papa abbiamo il tre di spade prendiamo un'altra forzatamente visto che altrimenti rimaniamo qui facciamo notte è già è già ora è tutto più chiaro abbiamo il papa abbiamo il tre di spade e il nome di denaro rovesciato ecco qua una di quelle giornate nelle quali i nostri punti deboli sono aperti come ferite fresche una di quelle giornate che ci mettono alla prova emotivamente va bene va bene ragazzi io a questo punto dico ai miei studenti come sempre di dare un'occhiatina di darsi il tempo per lasciare che le sensazioni vi invadano che le carte vi parlino con il loro linguaggio figurato lasciare che i colori vi parlino e non solo le figure e noi cominciamo cominciamo con la nostra lezione di tarologia di oggi il papa cos'è il papa il papa ovviamente un arcano maggiore quindi sta ad indicare un'energia molto forte intensa un'energia che agisce su di noi avendo un grande impatto a livello evolutivo e il papa riguarda cosa riguarda la nostra connessione con la spiritualità con la parte di noi più sottile con la parte di noi più saggia con la nostra anima con il nostro spirito la connessione con il sé superiore o la divinità il papa è quella carta che ci dice ragazzi avete capito come tenere tutto sotto controllo ma adesso che avete imparato a tenere tutto sotto controllo dovete anche imparare a lasciarlo andare questo controllo perché c'è qualcuno più in alto di voi che controlla tutto al posto vostro non avete voi bisogno di controllare tutto quindi il papa è proprio quella carta che ci fa sentire a volte piccoli e stupidi e che ci dice è inutile cercare di gestire tutto tanto avete già deciso prima di nascere cosa sarebbe successo e con questo attenzione non sto dicendo che non abbiamo possibilità di scegliere che non abbiamo possibilità di decidere anzi noi siamo qui proprio per imparare a scegliere e a decidere e a usare il libero arbitrio ma quello che sto dicendo è che comunque non è il nostro la nostra mente cosciente che decide nella maggior parte dei casi è un'altra parte di noi che veniva chiamata da qualcuno oggi viene chiamata subconscio ma in realtà veniva chiamata da jung super conscio che è da distinguere dal subconscio perché il subconscio è la diciamo non è una definizione relativa alla psicologia tradizionale quindi chi va all'università e studia psicologia potrebbe non essere assolutamente d'accordo con quello che sto dicendo qui ovviamente stiamo proiettando tutto da un punto di vista più spirituale ed esoterico però ecco il modo in cui vengono interpretate queste informazioni è questo a livello subconscio noi abbiamo i nostri istinti noi abbiamo i nostri programmi ciò che ci rende un po come degli automi come dei robottini che agiscono in modo automatico e che reagiscono in modo automatico alla società all'ambiente esterno in base a come siamo stati programmati nei primi anni di vita invece il nostro super conscio è l'anima è quella parte di noi che sa tutto di noi del nostro passato del nostro presente del nostro futuro è quella parte di noi che realmente decide quando noi diventiamo maghi quando noi diventiamo creatori della nostra realtà e abbiamo davvero il dominio sul nostro presente sul nostro futuro quando riusciamo a realizzare i nostri desideri quando riusciamo a mettere d'accordo conscio subconscio e super conscio quando queste tre parti di noi sono d'accordo ecco che accade la magia ed ecco che tutto quello che noi desideriamo si realizza volete l'amore avrete l'amore volete i miliardi avrete i miliardi volete andare sulla luna troveranno il modo di mandarvi sulla luna quindi il papa è proprio quell'insegnamento che noi dobbiamo imparare quando dobbiamo abbandonarci ed avere fiducia nel nostro super conscio nella nostra anima nel nostro spirito nella parte di noi più spirituale quella che sa cosa dobbiamo fare di cosa abbiamo bisogno quella che ci dice lascia andare lascia che sia tanto a lungo termine anche se qualcosa sembra che non vada bene oggi andrà bene domani il motivo di tutto questo casino poi alla fine ragazzi è questo cioè adesso io chiamo i miei studenti e non voglio veramente sentire che non sapete cos'è questo abbinamento cioè guardate qua guardate qua tre di spade nove di denari rovesciato questo abbinamento anche per chi è uno studente di primo livello è facilmente comprensibile non tanto perché dovete trovare una parola per identificare le due lame ma perché è evidente il tipo di energia che viene fuori da queste due lame è successo qualcosa qualcosa che ci fa soffrire tre di spade e il nove di denari rovesciato è la nostra incapacità di gestire queste emozioni perché il nove di denari rovesciato è un bambino non autosufficiente non indipendente è un bambino che ha bisogno degli altri che non riesce a stare da solo e che sta male quando perde qualcosa quindi tre di spade dolore sofferenza scelta difficile il tre di spade a volte è una carta che esce quando siamo costretti a scegliere qualcosa anche se ci fa male quindi magari prendiamo una decisione dolorosa ma ci affidiamo a ci affidiamo al nostro intuito ci affidiamo alla consapevolezza che comunque è la scelta migliore e quindi qui è il papa il nostro se superiore che ci guida nella scelta stiamo male e ci sentiamo piccoli e sperduti ci sentiamo soli abbiamo bisogno di qualcuno il nove di denari ha bisogno di qualcuno il nove di denari non riesce a stare da solo sta male da solo ha bisogno di qualcuno che gli stia accanto e impazzisce se non ce l'ha ma vediamo adesso un attimino di capire meglio che cosa sta accadendo oggi o nelle giornate attorno ad oggi ragazzi vi prego qui di scriverci che cosa sta realmente accadendo cioè perché state male o siete stati male o insomma che cosa sta per succedere per capire esattamente a cosa si riferisce questo tre di spade ci sarebbe molto utile e il tre di fuoco che corrisponde a un tre di bastoni beh infatti esatto per fortuna le cose si aggiustano perché quello che stavamo dicendo prima è proprio quello che accadrà sembra che stiamo attraversando un momento difficile ma in realtà nel lungo termine tutto andrà per il meglio nel lungo termine si vedrà che comunque fare una scelta difficile o affrontare un momento difficile ci porterà alla condizione migliore per noi una condizione che porterà abbondanza che ci dimostrerà come le cose alla fine vi involgeranno al meglio dobbiamo essere un po pazienti dobbiamo pensare più a lungo termine che a breve termine se vogliamo vedere i risultati dei sacrifici che stiamo facendo per il resto ragazzi vi invito a chiedermi una sessione privata tramite email o tramite sito internet vi invito a iscrivervi ai miei corsi e imparare a leggere i tarocchi con il mio metodo per il resto ci vediamo alla prossima